Il Consiglio regionale ha varato la tanto annunciata e discussa riforma della struttura amministrativa e dirigenziale della Giunta. Lo ha fatto nella seduta pre-ferragostana e non senza discussioni e malumori. Era uno dei punti fermi di Luciano D'Alfonso per rendere più snella e, se volete, anche più controllabile la macchina amministrativa. Le novità possono essere sintetizzate in tre nuove figure, quella del direttore generale, quella del commissario ad acta e quella del sottosegretario alla presidenza della Giunta. La riforma sarà operativa a partire da dicembre, ma in pratica è già in atto. Per quello che riguarda la figura del direttore generale, soggetto che risponderà direttamente al presidente, il nome che circola è quello di Antonello Turturiello, attualmente vice segretario della Lombardia. Da lui si attende una risposta positiva prima di ufficializzarne il nome. L'altro nome che circola è quello di Andrea Ciaffi, che comunque sembrerebbe destinato alla sede di Roma. Il nome certo è quello di Camillo D'Alessandro, che sarà il sottosegretario alla presidenza della Giunta. Figura nuova questa per l'Abruzzo, ma che da tempo è stata introdotta in altre regioni, come la Lombardia e l'Emilia Romagna. D'Alessandro, che in pratica è stato investito da D'Alfonso sin dalla sua elezione, non percepirà nessun compenso integrativo a quello di consigliere regionale, ma in pratica sarà il braccio destro operativo del presidente. Anche questo incarico partirà da dicembre, ma D'Alessandro lo sta facendo sin dall'insediamento. Per quello che invece riguarda il commissario ad acta, sarebbe più giusto dire i commissari, perché saranno più di uno e copriranno tutti i settori. Anche questi saranno di nomina presidenziale e allo stesso presidente dovranno rispondere. Insomma, D'Alfonso vuole avere il controllo su tutto quello che accade. A qualcuno può sembrare una sorta di governo autoritario della regione, ma d'altra parte è lui che ha vinto, è lui che governa ed è sempre lui che poi alla fine del mandato risponderà agli elettori.